Aspettative Non potrò dire che prima di nascere ero già lì ad aspettare una notizia, per esempio che il bel tempo non sarebbe mai finito, il caldo neanche, con le mosche incollate che annunziavano che presto anch'io sarei stato della ciurma di famiglia. I negozi raddoppiavano i prezzi in ottobre, ma al contrario rimpatriati i villeggianti. Vespe e api ritornavano in letargo e come i fiori i parti si chiudevano al tramonto. Concluderò che stare al mondo è lasciarsi acconsentire, confiscarsi in un luogo che sarà per sempre quello, una volta scaricate le borse nel freddo del portone, che ricorda mille agosti e li ferma nel dolore. Dissolvimento è dedicato a mio padre. Diciamo pure che eri fatto come una miccia o una stiva, che ti attaccavi anche all'aria che non respiravi, perché sapevi cos'era perdere ogni cosa all'improvviso o lungamente, calpestandoti o guarendo. Fissandomi all'interno dei tuoi pensieri reali, guarda come la tua vita si è incuneata nella mia, trasformandoti sempre e modificando anche me, che ora perdo scrivendoti e ricostruendoti altrove. Così lontano da casa da non sapere dove ci siamo mai visti, conosciuti o rinfacciati, se fossimo mai nati e se è vero che eravamo. Milano Centrale La massa amorfa dei palazzi di Milano è sfocata, è perpetua, come un occhio che brilla per il pianto, ripensando a queste strade sconosciute e millantate di successo e convivenza. Io ricosteggio come un animale di una razza ancora da inventare e a metà del filo del discorso vorrei urlare perché spunti la luna o si illumini un lampione e mi orienti da lontano spingendomi tra queste pietre disumane. Che un uomo si perda dove tutti stanno male è incredibile se lo si dà a vedere, perché una città serve a vivere in carriera e magari non si illude che le strade siano vere. Ma poi mi arriva come una rassegnazione di finestre innevate da tanto di quel sole che ignoro Milano e il treno non mi pesa, basta che il mio vagone si aggancia a un lieto fine e la vita mi riprenda per mano come un fiore. L'ultima E' anche in linea col tempo, fine settembre, dunque, si presentano a orari in cui ognuno prende il volo, verso le sette di sera quando ancora c'è il sole e con i loro gridi prendono forme umane, un gigante per esempio o un volto conosciuto, tanto che l'occhio non distingue il perché del movimento e vorrebbe saperne di più, ma questi stormi fanno a gara con corriere e treni di fortuna a sparire per primi, risucchiando il brusio dei pendolari, la stanchezza dei passi, la finzione di tutto. Vanno dove si disperdono altre voci, questa volta scaturite dalle case in lontananza. E c'è chi come noi ricorda vagamente dove abbiamo ascoltato per primi le parole che non hanno ritorno. Grazie